Il set a bassa interattività è quello più adatto alla didattica impostata con una modalità che potremmo definire tradizionale. Le interazioni e gli scambi sono pochi e avvengono soprattutto fra il docente e i singoli studenti che sono chiamati ad ascoltare attentamente, prendere nota, rispondere a domande o brevi attività lanciate dal docente. Questo modello si applica senza significative differenze sia nelle aule medio piccole che in quelle grandi. In questo set gli spazi e gli arredi sono caratterizzati da un livello di rigidità molto alto, spesso banchi e sedute sono fissati al pavimento e limitando così le possibilità di interazione dei gruppi. Da un punto di vista dei supporti hardware e software, questo set si riferisce alle dotazioni minime di base, ossia connessioni di rete, proiezione, piattaforme di webconference, sistema audio, ecc. E i docenti possono contare solo sull'uso di Students Response System, che consentono di attivare velocemente l'aula e di creare attività di consolidamento fra una lezione e l'altra. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare quando si parla di innovazione didattica, questo set non è superato o non meritevole di attenzione. In molte situazioni il contesto, le caratteristiche di docente e studente, oltre che i risultati di apprendimento attesi, richiedono proprio approcci di questo tipo, frontali e trasmissivi. Andiamo ora a vedere come usare il metodo Smart Learning Design è per progettare e potenziare questo set. I corsi che rispecchiano il set frontale a bassa interattività sono incentrati principalmente sulla raccolta di contenuti a bassa interattività, a cui si aggiungono in alcuni casi attività di retrieval per favorire la memorizzazione dei nuovi contenuti. Vediamo ora su quali elementi è possibile fare leva per potenziare l'efficacia di questi eventi di apprendimento nel set didattico frontale a bassa interattività. Per quanto riguarda la raccolta di contenuti a bassa interattività, durante la fase di progettazione è importante adottare tutti gli accorgimenti utili a facilitare la comprensione dei contenuti. Ad esempio è utile strutturare la lezione in più segmenti, conclusi ciascuno da una fase di ricapitolazione, applicando così la cosiddetta strategia di chunking o spezzettamento, selezionare la struttura narrativa più adatta e coerente al contesto. Ad esempio quando si affronta un nuovo argomento si può partire da qualcosa di concreto come una sperimentazione pratica o l'osservazione di un caso, una domanda, un problema o altro. Possiamo inoltre presentare molti esempi concreti tratti da contesti diversi e aiutare gli studenti nel passaggio dal caso alla teoria di fondo e viceversa, ripercorrendo questo passaggio più volte in entrambe le direzioni. Può anche rivelarsi utile preparare materiali a supporto che evidenzino i concetti principali e la struttura dei contenuti, inserendo quando possibile informazioni sia testuali che visive correlate fra loro. In questo modo si stimolano gli studenti a mettere in campo un processo di doppia codifica che aiuta la memorizzazione e che consente di richiamare dalla memoria più facilmente quel concetto. Nei casi in cui non si voglia stravolgere la struttura del corso e non ci sia spazio per proporre attività di gruppo strutturate, il docente può sostenere il processo di apprendimento proponendo brevi attivazioni degli studenti. Non è necessario progettare attività lunghe o complesse, sono sufficienti attività anche di pochi minuti distribuite durante la lezione. L'importante è che siano progettate in stretta interazione con la lezione. Le attività brevi aiutano nel riattivare l'attenzione degli studenti, stimolare il carico cognitivo e spingere ad una prima trasformazione e appropriazione dei contenuti, sottolineare gli aspetti cruciali dell'argomento che si sta presentando, spingere gli studenti a creare il nesso tra gli aspetti concreti come esempi, casi studio o esperimenti e aspetti teorici e intercettare percezioni fuorvianti o aspetti non compresi. A queste si possono integrare attività di retrieval, ossia richiamo e consolidamento, distribuite lungo il percorso. Si può chiedere agli studenti a inizio lezione, ad esempio, di rispondere a quiz sui contenuti della lezione precedente. I quiz che si possono proporre possono essere a risposta chiusa oppure ibridi, ossia che alternano quiz a risposta aperta e quiz a risposta chiusa. O ancora si può chiedere agli studenti di mettersi alla prova su argomenti affrontati qualche lezione prima. Lo sforzo che gli studenti devono mettere in campo per rispondere a una domanda a risposta aperta o a un quiz su argomenti visti tempo prima consente infatti di rafforzare la traccia mnemonica e favorire la creazione di legami fra le informazioni vecchie e quelle che ci si appresta ad ascoltare o leggere. La possibilità di testare spesso e frequentemente la propria memoria e preparazione fornisce inoltre a ciascuno studente un feedback individuale e uno spunto per valutare il proprio processo di apprendimento e mettere in atto correttivi. Queste strategie si rivelano efficaci in entrambi gli scenari sincroni in presenza e online. Infatti in molti casi può essere addirittura vantaggioso spostare alcune lezioni online per ottimizzare i tempi di trasferimento sia del docente che degli studenti e l'occupazione fisica delle aule. Come può venirci in aiuto invece la dimensione digitale per le attività asincrone? In questo set il momento di lezione è incentrato soprattutto sulla raccolta di informazioni e contenuti da parte dello studente. Le attività che si possono proporre al di fuori del momento sincrono che sia in presenza online dovrebbero avere lo scopo di attivare la memorizzazione e l'elaborazione delle informazioni raccolte e accompagnare il retrieval altrimenti lasciato alla responsabilità del singolo per porre le basi per un più efficace raggiungimento dei risultati di apprendimento del corso. Gli strumenti digitali si rivelano preziosi anche in questo caso perché supportano nella correzione automatica del test e nel monitoraggio dello svolgimento da parte degli studenti.